Eminenza, chiedi e ti sarà dato, ma le domande stanno diventando sempre più numerose. Come riuscire ad assolvere questo impegno? Certamente è anche la sfida di comprendere una realtà complessa e vedere come interagire con questa realtà. Certamente non è possibile fare il tutto, ma è possibile articolare sul territorio e poi anche ai vari livelli in cui maturano le decisioni e le discussioni delle competenze e soprattutto direi anche un cuore capace di ragionare non solo secondo dei criteri razionali ma anche dando la preminenza, la centralità dell'uomo. Allora chiedere e ottenere vuol dire articolare tutte le componenti della società perché nelle loro caratteristiche specifiche possano mettere a fuoco la situazione reale e interagire con essa nel modo possibile. Se parliamo di migranti, i cuori europei si sono chiusi o è la paura farli chiudere? La paura è una componente anche della vita del cuore dell'uomo, quindi bisogna vedere se ci sono delle forme di paura ingiustificate, delle forme di paura indotte oppure se c'è anche della disinformazione. Certamente la disinformazione può essere un terreno di cultura preoccupante e quindi io auspico che ci sia un'informazione ampia nel mettere a fuoco la realtà delle questioni e quindi anche poterle affrontare con serenità ma direi anche con sinergia. Quindi l'ONU deve fare la sua parte, l'Europa deve fare la sua parte, gli stati nazionali devono fare la loro parte e anche il territorio locale deve fare la sua parte. Un Papa innovativo finalmente e un San Francesco sempre attuale? San Francesco come tutti i Santi mantiene una imperturbabilità rispetto al passare dei secoli, delle mode e delle culture. Il Papa è un Papa che il Signore ci ha donato e noi cerchiamo di ascoltare bene quello che lui dice sia con le parole sia anche con i gesti che compie.